Un grande applauso alla memoria di Teofilo Sanson. Invito la figlia Antonella Sanson e il Presidente Riello a salire sul palco per la consegna del premio. Mentre salgono, leggo la motivazione che ha spinto la Giunta Camerale ad assegnare quest'anno il premio speciale alla memoria a Teofilo Sanson. A titolo di pubblico riconoscimento all'industriale e mecenate dello sport che partendo da un chiosco di gelati ha creato un'azienda il cui marchio rimarrà per sempre nella storia del gelato italiano, la Sanson. Sanson ha dedicato grande impegno e passione al mondo sportivo, dal calcio con l'Udinese al rugby, con Rovigo Rugby, ma soprattutto al ciclismo. Scoprì Merckx, ingaggiò Moser e portò nella sua amata Verona due edizioni dei mondiali di ciclismo, 1999 e 2004. Non so se il Presidente voglia aggiungere qualcosa. Ma io posso solo dire che ho avuto la fortuna di conoscerlo, nient'altro, sono emozionato. Grazie. Ovviamente sono emozionata anch'io, però ci tengo a dire che siamo molto grati alla Camera di Commercio di Verona, soprattutto a te, Giuseppe, per aver pensato a nostro padre per questo bel premio e sono convinta che lui sarebbe felice, orgoglioso di essere ricordato come avete fatto voi questa sera qui a Verona, in questa bella città che lui ha amato tantissimo, in questo luogo e in questa circostanza. Grazie davvero. Grazie. Grazie di cuore. Tra l'altro sul palco è salita solo Antonella, ma io vorrei salutare e ringraziare per la loro presenza anche la signora Giannina e le altre tre figlie, Tiziana, Anna ed Emanuela. Un applauso anche a loro.